Un ricordo di Sandra Milo, della tua meravigliosa collega? Quello che è stato Sandra lo sanno tutti, basta andare ad aprire questo libro del cinema italiano e si racconta da sola. Io la ricordo solo come una grande mamma che ha lavorato fino a 90 anni per avere la tranquillità della sua famiglia, di sua nipote e ha fatto tanti sacrifici. Nonostante fosse una vera diva, è stata una grande mamma a 360 gradi. Hai un aneddoto con lei che puoi condivire? Posso avere tanti, adesso vagano per la mente, non posso ricordarli. Ho fatto un trascorso artistico, una lunga tournée ed ho ricordi meravigliosi insieme a lei, insieme a Claudio Insegno, che mi ha dato l'opportunità di poterla vivere più da vicino, ma come amica e non come star. Anche perché lei diva, nonostante lo fosse, il suo comportamento è stato sempre il contrario di quello che si poteva pensare. Una mamma soprattutto, dolcissima e meravigliosa. Grazie mille. Prego.